Gigi Randazzo, oggi l'Italia si toglie una bella soddisfazione contro la Francia. Sì, era parecchio tempo, perché avevo una vittoria, poi era una vittoria importante, stiamo lavorando parecchio, ci stiamo giudendo e quindi mi sembra attraverso la sera. Senti, ci voleva per il morale, no? Dopo tante sconfitte, arrivati proprio nel finale di 7. Sì, diciamo che abbiamo perso molte occasioni con la Russia, però l'importante è non mollare, siamo una squadra di sconfitte, tenace e sicuramente davanti a sconfitte, non ci dobbiamo demoralizzare. Oggi c'è nel senso di 4 momenti finali, che non è bene lui, non è adesso. Sì, oggi, diciamo stranamente, nei momenti finali abbiamo fatto squadra, abbiamo fatto gruppo e abbiamo lottato insieme, questa è una cosa importantissima per l'Italia della Francia.